Ciao a tutti qua da Garrubo, mi sono comprato i nuovi vestiti adesso si e siamo Ric Flair Andiamo a fare una bella missione, vediamo cosa dobbiamo fare, incarichi No, dei potenziamenti ragazzi, bene, ah danno ridotto, velocità, viene 15 però ragazzi, ce ne ho 7 Non possiamo comprare nulla, ok, incarichi, aspetta, denaro cos'è, perché lampeggia? Ah, dobbiamo fare, va bene, facciamo incarichi e ancora questo, scopri come danneggiare gli alieni Bene, benissimo Ok, prendiamolo Vai, la scuola, guardate la scuola Generatori Ok Oddio Oddio Boom Oddio, ma spettacolo Oddio 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 documents Oddio 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 Sto arrivando! Eeeh... Oh, eeeh... Buuuu! 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 Oh! Oddio! Lo sto morendo! Power Bomb! Buuuu! Un girocchiatore! Eeeh... Direi che l'ho fatto volare. E' un bel bug. Stai bene lì. Noi ci piace lì. Mi spacchiamo tutto. Ok, andiamo alla struttura, ragazzi. Buuuu! Crossline! Attenzione! Stunner! Oh, che cazzo! Brascio dietro! Schiasciatone! Buuuu! Bam! Ah, vi sto distruggendo di mazzate. Uuuu! E' un misterio! Ottisa! T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t! Oh, no! No! Stavo facendo casi né il guerriero! Ah, t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t! WhAT- час! Ah! In caring! Ohoho! phosphate, canali! Oddio Oddio Oh merda Oh merda Devo ammazzarlo Devo ammazzarlo Oh merda, devo ammazzarlo Un secondo ora delle armi Aiii Dove cazzo fai? Sei bruttissimo Ma cosa cazzo vuoi fare? Stai parlando con i Turbo Eric Flair? Ti ho perso di vista I'm the limousine flying Jet flying Bastardo Mio dio che volo Quella Caricati Caricati Non posso darlo a cazzotti per nulla Con una forza brutta non serve Ricaricala E' lì Vai! What the fu... Matrix L'ho detto io Matrix Questa X X Ah L'ho assorbito Ho, l'ho assorbito congelare le persone seleziona scarica fongelante ecco qua congelarli con RB ah ecco wow eh ragazzi è perfetto c'è congelo e chi cazzo mi pare e poi lo posso sparare in bocca wow perfetto contro gli UFO ah tipo così oh dio poi spara questo è infinito ok ah questa è una specie di ecco ecco qua perfetto perfetto bene ragazzi continuiamo il nostro sentro qui facciamo un'altra missione dobbiamo tornare sulla terra la fuga scappa dalla simulazione ho qua personalizzazione potenzia una vabbè se sono carichi secondari non ci interessa la fuga scappa dalla simulazione bene vai vai Sì, ma non sono tutti, solo un sacco di persone. Con quello che ho capito di decifrire, la simulazione è costruita per aiutare i migliori e migliori spessimensi di diversi mondi. I migliori e migliori spessimensi di un'ottima planetà? Quanto grande è questa cosa? Grande. Ma non sono ancora arrivati a tutta la Terra, solo le maggiori città. L'ultima che ho sentito, Oleg è arrivato a Camp David. Questa zona non sembrava che è stata stata riuscita. Ok, quindi abbiamo gente che resta sulla Terra, è bello che sapere. Una volta che sei liberato da questa simulazione, potrà creare la connessione con la Zinn Matrix. Questo mi permette di ritrovare il tuo corpo qui, nel mondo reale, senza che soffermi di amici permanenti. O.D. dove sono in il mondo reale? Cioè, cosa facciano con il mio corpo? È in un posto sicuro. Quando sei liberato, ti prendo a te nel pittorio. Ok. Avremo la porta. Ben carccio alla porta. Ah. ahahah oh, bravo ahahah ahè oh, that didn't go terrible can you quit being a baby and just walk in? oh, look lady, we're doing this in my time no, you're not oh stargate E' come Matrix Dove è quale? Ah, siamo nudi come il culo di un macaco Sì, siamo nudi Bene, barcolliamo Eh, lo sapevo pure io Oh, mi sento come un toilet a un bus Oh, stop Camminiamo Ecco Una bella vomitata Oh, ho bisogno di andare in quella plafora Eh Eh, sì, ho un barcollavro No Abbiamo rivomitato Dai Cammino Dai 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 Oh, shit Hey, what are you doing? Dai Quella Che cazzo vuoi fare? Spettacolo Eh, che ti sei ripreso Dai Una strafottu'arma Eh, come saperlo pure io Non si può correre No, eh No, volevo sentire Ah, mi sa che è il riscaldamento pure Questa va Dopo un po' si riscalda Oddio Guardami il pene Mentre ti sparo Perché sono nuda Andai lì Più, 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 più Mamma mia Eh, eh Ma che fai 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 Corri, corri Ma che mira di merda che ho Guardami il video Sono Ric Flair Guardalo Eh, non lo vedi più Ma che cazzo Che mi sono fatto, padre? Io non sto leggendo Quello che sta dicendo Ma non mi interessa Che dobbiamo scappare Vai Mamma mia Headshot, vai Ora, ora Oh, Gesù Oh, cazzo Ah, ecco Per raffreddare Come lo so Andiamo a fare Vai Sono quelli Con gli scudi Cazzo C'è una cosa Che esplode Merda E ora Vai Bene Aiuto Bene Oddio Let me take the stick. I'm getting us out of here. Gee, Kinsey, thanks for saving my life. Why, thanks, boss. I love being appreciated. Boss, I'm the president now. When did you turn into such a jerk? Surprise, Kinsey. I've always been an asshole. Thank you. I mean it. You're not wearing pants. This just got weird. Can I fly now? Knock yourself out. Mhahhhahhhha Mhahhhahhh. Uuhhh. Questo gioco come sta diventando... Dov'è il picco cazzo. Devo pilotare la nave. Oh mio dio. Oddio Warislove! Questo è un videogioco quando ti mettono anche Warislove! Oh mio Dio, questo è un video difficile, non sono buono ai giochi così! Perché, oh mio Dio, tutto quello che sto facendo non lo so neanche io perché lo sto facendo e come ci sto riuscendo! What is love? Baby don't hurt me, don't hurt me, oh Dio! Come duo barrel, oh Dio hanno messo il duo barrel, bellissimo! Do a barrel! Grande meme di Starforks! Oh Dio! Oh Dio, cosa devo fare? Ma siamo pazzi! Vai, siamo fuori! Dio ragazzi! Dio ragazzi! Dio ragazzi! Dio ragazzi! Dio ragazzi che ha pensato che Nightblade era solo un vampiro! Oh no mio amico, è l'essenza del dramma! Ehi, bisogna prendermi? Come ignora? Come ignora? Oh mio Dio! Ha scop... Ha scoperto la terra! Oh Gesù! Oh Gesù! Oh Gesù ragazzi! Oh Gesù ragazzi! Oh Gesù ragazzi! Che mettere, c'è una cosa a scoperto. È l'verso, cosa continuerà a fare! Oh Gesù ragazzi! Il modo è spesso di direzione. Quando è inizuale stufarsi disfrappato, ho la la notte di una piccolaere dati da mio sinniacchi. Ma più è inizuale, più tempo, poter faccio di cerchereroatamente di otto da di scoperto. E posso identificare la strutturalità, poter lavorare con gente, qui sono amici i miei… e trovare Zinnia. Allora, facciamo questo. Ma sempre, come sempre, andiamo avanti a me. Come tutte le storie buone, il secondo acto inizia con la chiamata e la construzione di un robot. La sua felice era molto importante. Cos' l'ho pensato? Bella ragazza dei miei 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 miei.